La palla recuperata da Borsi, lotta a Faccin e Giovannetti che ha la meglio, poi palla per Antonioni, la risposta di Corona. Trafico, esce Ortiz che parte in uno contro uno e la mette sotto il sette. Viva comunque l'argentino, poi Borsi sbaglia tutto, Najera, Najera, il Cardinal Pablito. Vannetti nell'Odi, Fernandes, Corona sulla palla ancora di Pablo Najera, occhio al due contro uno, Sarzana, Olmos. Poi Borsi, Garzia, Borsi, 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 un braccio a Corona, occhio dall'altra parte a Garzia, Garzia fa tutto benissimo a mille all'ora, Josi Garzia. E riporta avanti il Sarzana, Corona è entrato Frade Rinaldis nel Sarzana che va su però con Olmos, terzo contropiede, letale e terzo gol del Sarzana. All'Antonioni, poi va via benissimo, va giù, non c'è fallo, Olmos, ancora davanti a Grimaldi, fa 4-1, ancora Najera. C'è dentro Nadini in area, poi la palla per Faltozzi, un missile. Nadini, palo, ancora Nadini! Antonioni, Ortiz per festa, palla regalata a Najera, Najera solo, Najera contro Corona che gli chiude. Riparte il Lodi, adesso sembra anche con un altro spirito, Najera ancora dal... Poi però va a recuperare una gran palla su Ortiz, Giovannetti, Facin, Corona la... E a far ripartire Garzia su Grimaldi. Nera vincente Fantozzi, riparte Facin, Fernandes, Fernandes, centro a due. Fantozzi, Fantozzi, Corona, ancora lì di Giovannetti. Per Facin! Garcia che lo costringe ad allargarsi, ultimi 8 secondi, Fernandes, Fernandes... Subito però a servire di fatto Josi Garcia che riparte, Grimaldi ci deve subito mettere, se lo abbiamo visto nel primo tempo... Najera su Ortiz, poi Nadini, palo, Giovannetti non riesce. È presente contro piede rosso nero il Luzzi, Ortiz si libera a servito Grimaldi. Pezza il Luzzi, occhio che c'è Ortiz solissimo, Borsi, Borsi lo cerca. La regala per Ortiz, Fantozzi, Fernandes, Fernandes, Corona. Fantozzi accelera, accelera lui, prova a far tutto, non solo gran palla per Facin al volo. Si salva Corona, poi ancora Facin, ancora Facin, D'Artagnan con la maglia numero 5. Fernandes, la bomba, l'Euro goal di Pippe, Fernandes, l'Euro goal. Giovannetti stanno per scadere i 10 secondi, Facin la ritrova lì. Sempre il portoghese attaccato da festa, va via Fernandes, Corona. La sua accelerata, Najera arriva davanti a Corona che respinge e poi arriva il fischio di Gian Gregori. Va Fernandes, altissimo, 6 e mezzo al termine. Najera porta palla, attaccato da Olmos in maniera irregolare per Silecchia. È il decimo fallo del Sarzana, fischia Gian Gregorio. Va Fantazzi, Fantomas. Ancora lunghissima Olmos per De Rinaldi, Grimaldi lo chiude col bastone. Sarzana riesce a uscire dalla zona buia, Antonioni è solo, Antonioni, Corona. Un grande sforzo per risalire dall'1 a 4. Va giù Olmos, non c'è niente per Silecchia. Najera, Najera, Corona. Luzzi cerca la deviazione di Olmos, la palla sta lì per Garzia, Grimaldi. Per fortuna dell'Odi si salva ancora Grimaldi, meno di due minuti al termine e poi il fallo di Olmos su Antonioni. Può concedere il bis. Fantozzi contro Corona. Uno e tiro, traversa. Finisce 6 a 4 per l'Amatori Vaskellodi che vince una grande partita.